E' appena finito il Consiglio Comunale, mi pare che dall'opposizione è arrivata la richiesta di chiarimento sulla questione. Questo chiariremo, chiaramente, con la presenza del nuovo aggiunto, questo lo chiariremo in Consiglio Comunale, anzi, prima i cittadini e poi in Consiglio Comunale. Però, Sindaco, sono successe delle cose. Oggi per esempio mancano i due consiglieri di maggioranza, di Fino. Esiste la maggioranza ancora o no? Certo, la maggioranza c'è. E sul Vice Sindaco invece non c'è da dire niente? Ci saranno, ci saranno. Nei prossimi giorni, chiaramente, decideremo e comunicheremo ai cittadini quali saranno le decisioni.